Mi mancava tantissimo, soprattutto l'ho stato di casa ben sei mesi e mezzo e che aspettavo questa emozione di ritornare tra i tifosi rosso e blu ed è stato un grande piacere ritornare. In questi sei mesi ho dato sempre la mano anche stando a Roma, facendo riabilitazione e tutto. Non ho mai smesso di seguire la squadra anche certe volte in trasferta. Comunque quando potevo l'ho sempre accompagnata anche nei momenti buoni e nei momenti difficili. Secondo me basta stare compatti, uniti perché essere compatti è l'unica cosa che ci può far salvare oggi. Sì, quando sono entrato il mister mi ha detto dai tutto, rincori tutti i palloni e io ci ho messo del mio anche avendo un po' di paura appena è entrato dopo sei mesi e mezzo dopo l'intervento al ginocchio quindi c'avevo un po' di paura nella mia testa però dopo aver raggiunto il primo contrasto in gara poi la mia testa si è liberata da là è proseguito tutto. Sì, quando entro anche gli ultimi cinque minuti do sempre male alla squadra ieri quei palloni che mi sono arrivati o pochi o tanti cerco di giocare al meglio per far rifiatare e portare la squadra sempre più alta possibile per farla vincere. Le 90 minuti ancora li vedo lunghi però pian piano gli allenamenti dopo le partite facendo le partitelle, i contrasti e le corse intermittenti spero di recuperarli al più presto possibile. Ma il Genoa secondo me sarà una gara bella tosta come le saranno tutte sia in casa che fuori casa quindi dobbiamo cercare di lottare da qui all'ultimo il pallone ogni domenica peserà sempre di più quindi dovremo essere bravi e forti a non farci condizionare né dall'avversario né dal pubblico né da nessuno dobbiamo contare soprattutto solo su di noi. grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti